che ridere quanto sono ridicolo ciao amici miei scusate se non faccio live ma sono stanco infatti voglio fare questo mini video per scusate mi è arrivato un messaggio ciao Brittany innanzitutto per tranquillizzarvi che sono tornata a casa ho sbagliato strada a ritorno e ho fatto una strada poco carina quindi non me la sentivo di farla live cioè la strada la conoscevo da un certo punto però vabbè insomma sto a casa sto meglio la voce secondo me sta meglio anche quella nonostante abbia parlato per otto ore consecutive però boh la sento meglio la voce ancora è un po' così eh tipo ciao sono Mandingo Brittany si amore ti amo anch'io ah vabbè le Brittany che volano qui e vabbè comunque volevo tranquillizzarvi perché sto a casa sto a letto quindi adesso carico il video e mi metto a dormire sto meglio non c'ho più non c'ho dolori stasera né alle ossa né ai muscolari né allo stomaco né alle ovaie insomma quindi volevo solo aggiornarvi ragazzi scusate se sto un po' così scodesso ma sono veramente stanco niente sigaretta speciale stasera però sono stanco anche perché gli occhi sono troppo bianchi raga domani mattina attacco alle nove e mezza quindi alle otto e mezza faccio la live per andare al lavoro perché la strada dell'andata me la ricordo a ritorno ancora no vi mando un grosso bacio non dimenticate che vi voglio bene ciao amici buonanotte è